Allora, grazie Presidente, si intervengo sull'ordine dei lavori con riguardo a quell'articolo che è apparso sul Fatto Cotidiano il 17 ottobre. Un articolo nel quale lei avrebbe dichiarato la commissione Covid è un circo e altre amenità di questo tipo. Presidente Elisei, queste dichiarazioni che abbiamo lette, sia pure carpite dai giornalisti e non frutto di una sua intervista, ma da lei non ci risultano essere state smentite fino ad oggi, destano in noi grave preoccupazione sullo svolgimento proprio dei lavori di questa commissione. Si legge in questo articolo di pressioni che provengono da ambienti interni alla maggioranza e dai piani alti del suo stesso partito politico. Si legge di una serie di sollecitazioni che derivano da mondi novax, di contestazione del pensiero medico-scientifico per ragioni meramente politiche. Tutto questo, come ripeto, destra in noi grave preoccupazione, perché non vorremmo mai che le finalità istituzionali di questa commissione e in genere di una commissione d'inchiesta, vengano inquinati da fattori che nulla hanno a che vedere con l'accertamento oggettivo della verità dei fatti. Noi confidiamo, signor Presidente, che lei in futuro potrà esercitare in modo terzo e imparziale le sue funzioni di presidente, le quali, oltre alla terzietà del ruolo super partes rispetto a tutti i componenti di questa commissione, sia di opposizione ma anche, mi preme sottolinearlo, di maggioranza, comportano la sua totale impermeabilità a qualsiasi tipo di sollecitazione o suggestione esterne, tantomeno se proveniente, come pure si legge, dei piani più alti, attualmente, della politica italiana. Sono note, signor Presidente, le nostre gravi perplessità sul contenuto della legge istitutiva di questa commissione, che esclude dal campo dell'indagine gli enti territoriali e in particolare le regioni, con i relativi atti e fatti e le relative determinazioni. Una tale scelta è infatti non solo irragionevolmente limitativa rispetto all'indagine, ma è anche non pertinente rispetto alle competenze assegnate ad una commissione di inchiesta dall'ordinamento costituzionale. Ciò nonostante, con grande senso istituzionale e rigore personale, noi, noi siamo qui, del Movimento 5 Stelle, a partecipare ai lavori, collaborando attivamente già in questa prima fase di audizione, ma i segnali che ricaviamo da tali articoli di stampa non sono affatto rassicuranti sulla oggettività e sulla scientificità ed imparzialità dei lavori di questa commissione. Non tradisca, signor Presidente, i cittadini italiani che chiedono verità. Non tradisca i medici e il personale paramedico, gli eroi della pandemia, i quali esigono venga svolto un lavoro accurato e scientificamente pregevole. Non tradisca, signor Presidente, il mondo scientifico che tanto ha lavorato all'isolamento del genoma del virus e alla individuazione di protocolli terapeutici e vaccinali che hanno consentito al Paese e direi al mondo intero di uscire dalla pandemia. Presidente, già in passato io ebbi ad esprimerle le mie critiche in relazione ad una sua precedente intervista apparsa su un quotidiano nazionale all'indomani dell'insediamento di questa commissione ed ora mi trovo a ribadire la mia disapprovazione, direi la nostra, per quanto è emerso dalla lettura dei giornali. Noi, Presidente, vogliamo che il suo operato sia consono al ruolo istituzionale che riveste e soprattutto alle aspettative del Paese intero che nutre sulle capacità di questa commissione di dare risposte certe oggettive. Confidiamo quindi, in futuro, che i passi saranno migliori rispetto ai primi che sono già così incerti e pieni di inciampi. Concludo, Presidente, ricordando le parole espresse dal Presidente della Repubblica domenica 20 ottobre, partecipando al Festival delle Regioni e delle Province il Presidente disse Le istituzioni appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse. Molto brevemente, non intendo smentire o rispondere di presunte dichiarazioni che non ho rilasciato, perché non sono dichiarazioni ma sono parole che avrebbe sentito un giornalista o un origlione, non so chi sia, che avrebbe sentito e quindi non ho intenzione di rispondere su dichiarazioni che non ho fatto e che forse avrei pronunciato, ma il che è tutto da dimostrare. Le dico un'altra cosa, io sono terzo rispetto ai colleghi, è proprio questo dovere di terziarietà che non vuol dire però che non ho le mie idee e dico già adesso che non ho intenzione di farmi mettere il bavaglio su quello che penso, perché la mia terziarietà rispetto ai commissari la esprimo su come gestisco i lavori della Commissione e questo lo fanno anche gli altri Presidenti anche di altre commissioni, anche ad esempio in Vigilanza Rai dove io sono membro, la Presidente Fioridia spesso esprime le sue opinioni legittime fuori, in seno alla Commissione, ma in seno alla Commissione tratta tutti i commissari nella stessa maniera, perché il dovere del Presidente è come gestisci i lavori dell'Aula, non i suoi pensieri e quindi vi dico già adesso che non ho intenzione di farmi mettere il bavaglio perché non siamo in fase di pandemia e quindi quello che penso come persona, come Marco Lisei, continuerò a pensarlo e continuerò a dirlo, ma nel garantire a tutti i commissari le stesse possibilità, le ricordo che qua avete sempre avuto come Movimento 5 Stelle e in particolare il suo collega Conte ha sempre avuto la possibilità di intervenire, domandare, fare tutto e lo dico anche perché deve cambiare che non possiamo andare avanti così, perché ne ricordo l'articolo 9,2 del regolamento della Commissione d'inchiesta che dice che coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alle Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono previamente informare il Presidente sull'oggetto dei loro interventi, il Presidente può trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi della seduta qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori della Commissione. Il Movimento 5 Stelle, ogni seduta di Commissione è intervenuto su temi che centravano o l'ufficio di Presidenza o per fare dichiarazioni o comunicazioni, come dimostra anche questo intervento, perché questa è una comunicazione che io prendo, una doglianza giusta che io prendo, ma vi informo che la sede delle audizioni non è quella formalmente corretta, perché la sede corretta, come abbiamo ripetuto tante volte, questa è l'ennesima volta che lo faccio presente, è l'ufficio di Presidenza, ma non perché dispiace al Presidente, perché in fase di audizioni noi chiamiamo delle persone che vengono da tutta Italia, che prendono un treno, che pagano il biglietto, che gli si dice di arrivare qua alle 13, alle 13.30, alle 14.30 e che devono aspettare e devono ritardare i loro treni, i loro interventi, come è accaduto anche la volta precedente, o fermarsi a dormire a Roma perché non sono riusciti a ripartire in tempo, perché noi in fase di audizioni dobbiamo parlare di cose che non attengono alle audizioni. Ora, io vi ho fatto sempre intervenire, vi ho sempre garantito di dire tutto, anche se non c'entrava con gli auditi, però vi faccio presente che questa non è all'interno del regolamento, stiamo agendo fuori dal regolamento, perché non è previsto nel regolamento che in fase di audizioni avvengano continuamente questi interventi, vi sto dando, nonostante tanti commissari se ne stiano lamentati, vi ho comunque finora concesso sempre di intervenire, di dichiarare di fare tutto quello che volete, più di quello che fanno gli altri commissari. E questo credo già di per sé che sia dimostrazione della mia terzietà e della volontà di darvi tutti gli spazi di espressione che potete avere anche fuori dal regolamento, però vi dico sin d'ora che non possiamo andare avanti così, perché se no ogni seduta diventa l'anarchia, ogni seduta ognuno può intervenire, fare la sua dichiarazione e dire quello che vuole. E credo che questo, non lo dico, ripeto, per me o per l'andamento dei lavori, perché come ha visto non è che mi faccio, non è che sono timido nel dare delle risposte, lo dico per rispetto degli auditi. Noi chiamiamo delle persone che vengono a tutta Italia per dirci delle cose e poi non rispettiamo gli orari che gli diamo e già questo gli mette in difficoltà. Quindi, sull'ufficio di presidenza, glielo ho già detto, faremo un ufficio di presidenza, l'avremmo dovuto fare la settimana scorsa, tra l'altro vi ringrazio e mi dispiace di avere spostato le audizioni per un mio impedimento fisico personale, che l'influenza una volta l'anno colpisce anche me, però faremo certamente l'ufficio di presidenza anche per aggiornare eventualmente quella lista rispetto alle ulteriori richieste che sono avvenute sempre nel perimetro che ci siamo già dati però come ordine dei lavori e programmazione dei lavori, quindi forza dell'ordine, associazione di famiglie, non lo ripeto per la centocinquantesima volta. Le do qualche minuto di risposta, però poi dobbiamo fare entrare gli auditi, collega. Grazie Presidente, e voglio ricordare che l'articolo 9 dell'eccitato vincola in primo luogo lei, nella misura in cui nella direzione delle audizioni lei non dovrebbe ammettere contenuti che fuoriescano dall'ordine del giorno. Da ciò la nostra necessità di precisare l'oggetto dei contenuti perché questo attiene ad un ordinato svolgimento dei lavori. L'ordine del giorno, signor Presidente, non vincola solo noi, ma vincola anche gli auditi e vincola soprattutto lei nell'attenersi e chiedere che ci si attenga ai contenuti dell'ordine del giorno, tal che noi siamo dovuti intervenire anche su materie che non erano formalmente ricomprese nella prima fase per la semplice ragione che lei ha dato spazio a che venissero trattate nel corso delle audizioni queste materie. Questo non è così perché se lei riprende tutte le registrazioni vedrà che io ho sempre richiamato gli auditi, in tutte le circostanze, li ho richiamati ad attenersi, l'ho fatto il richiamo prima che iniziassero a parlare, quando parlavano eventualmente se parlavano fuori e l'ho rifatto dopo, lamentandomene anch'io, ma non ho intenzione, non possiamo mettere il bavaglio alle audite, non posso dare un pugno all'audito perché dice qualcosa che gli abbiamo detto che non può dire, gli abbiamo esortato a non farlo perché comunque esiste una libertà di espressione, dopodiché quei fatti e le cose che hanno detto che non c'entrano con l'ordine dei lavori non verranno prese in considerazione. No, indubbiamente Presidente, grazie per avermi interrotto, Anzi, più volte è chiesto anche il Presidente Conte interrompendo gli auditi e lei se lo ricorda molto bene, due volte. Lei indubbiamente non può dare un pugno all'audito nella misura in cui parli extra l'ordine del giorno, ma tantomeno lo può dare a noi nella misura in cui riteniamo su quel perimetro di poter intervenire in sede di precisazione, di domande, di replica, perché ormai... E non ve l'ho mai impedito. Ecco appunto, quindi non può a questo punto lamentarsene come è sembrato che facesse nel suo precedente intervento in cui lei ci ha richiamato ad attenerci all'ordine del giorno all'articolo 9,1. Le dico, è stato lei in primo luogo a non applicare l'articolo 9,1 nella misura in cui ha consentito che gli auditi... Mi scusi Presidente, mi scusi Presidente, capisco la sua, diciamo, però insomma... No, stavo usando del... Però le dico Presidente che nel momento in cui gli auditi fuoriescono dal perimetro che è stato definito nella prima fase delle audizioni, a noi ci corre l'obbligo, proprio per l'oggettività e la scientificità dei lavori di questa Commissione, di interloquire anche su questo, quindi non capirei come lei possa applicare le limitazioni poste dall'articolo 9,1 che lei ha citato a nostro carico, o lamentarsene oggi, nella misura in cui gli auditi abbiano invece scontinuato. Io lo riempio, l'articolo 9,2. Ce l'ho sott'occhio Presidente. Voi le domande le avete sempre fatte, non ho mai impedito domande a nessuno, non ho mai impedito domande a nessuno. Le sto dicendo un'altra cosa, che come è avvenuto in tutte le sedi state facendo prima delle audizioni, perché qua non abbiamo l'audito che parla di altro, come ve l'ho detto anche nelle altre volte precedenti, l'hanno lamentato anche dei commissari, ogni seduta di audizione, questa è la prima, la volta precedente ci sono state le dichiarazioni del Presidente Conte, la volta precedente ancora altre dichiarazioni, prima delle audizioni o durante le audizioni fate interventi con dichiarazioni sull'ordine dei lavori, la programmazione dei lavori, che non è programmazione, perché quello che lei oggi ha lamentato a me mi ha contestato degli articoli di stampa, quindi non c'entra niente con le audizioni. Sì, ho contestato Presidente degli articoli di stampa nei quali lei tra virgolette avrebbe detto che la verità è che la Commissione Covid è un circo, un circo con un grande tendone, allora mi sarei aspettato che lei potesse chiarire queste sue dichiarazioni, penso che se l'aspetti l'Italia, penso che se l'aspettino i medici, se l'aspettino le vittime e i guariti del Covid, se lei è di diverso avviso sono rammaricato di questo, ma Presidente definire la Commissione un circo con tendone, così come lei ha deferito, avrebbe richiesto da parte sua una presa di distanza. Facciamo entrare gli auditi e sentiamo gli auditi, salvo che colleghi non vogliono intervenire, perché lei ha diritto di intervenire tutte le volte, è intervenito tutte le volte fuori dall'ordine dei lavori, però...